E se ti dicessi che puoi risolvere il 99,9% dei problemi relativi agli errori oppure di lentezza del tuo computer senza bisogno di chiamare un tecnico e senza bisogno di installare assolutamente alcun software esterno, mi crederesti? Iniziamo! Tutto quello che accade sul nostro computer viene costantemente memorizzato e registrato in appositi log. Visualizzatore eventi e cronologia affidabilità. Si tratta di due app già incluse in Windows 10 e in Windows 11 che saranno sicuramente presenti anche sul tuo PC. Ti basterà portarti qui in basso sulla lente di ricerca a digitare nella barra di ricerca per l'appunto cronologia affidabilità e potrai aprirlo ovviamente facendo un semplice clic sul nome del programma. Si tratta di un registro degli eventi che si sono verificati in un dato giorno sul nostro computer. Ad esempio qui notiamo la presenza di quattro iconcine. La prima, quella più in basso, di colore azzurro, è un'icona di informazioni. La seconda, un triangolo giallo con un punto esclamativo nero e un avviso, mentre la terza e la quarta, di colore rosso con una croce bianca al centro, rappresentano degli altri tipi di errori. Andiamo a vedere come individuare un errore e soprattutto come risolverlo. Nel momento in cui andiamo a selezionarne uno e a visualizzare i relativi dettagli tecnici, si aprirà una schermata come questa. Quello che possiamo fare in questo caso è andare a selezionare tutto quanto questo testo qui, copiarlo, aprire il nostro browser, digitare il nome dell'intelligenza artificiale che preferiamo, entriamo in ChatGPT e una volta aperto il sito, senza scrivere assolutamente nulla, andremo a fare semplicemente clic destro e quindi incolla nella barra di ricerca, seguito da una pressione su questo pulsante qui. In pochi secondi ChatGPT analizzerà il nostro errore e ci riproporrà una soluzione caso per caso. Come vedi, infatti, per quanto concerne il nostro tipo di errore, oltre a darci una sommaria descrizione di quello che è successo, va ad individuare e ad elencarci tutte le cause più comuni che possono aver generato questo tipo di errore, ma anche e soprattutto ad elencarci e spiegarci passo per passo, in maniera veramente semplicissima, la relativa soluzione, indicando anche i comandi che potranno essere tranquillamente copiati ed incollati nel nostro prompt, senza neanche il bisogno di andare a digitarli. Alla prossima!